Il primo album di Nidyuar Ho portato i panni sporchi Gentile, finalmente solo Che cos'è questo casino? Scusi, scusi È possibile avere un po' di silenzio? Sì, lo spacca muro Tutti congiurano per impedirmi di ascoltare il mio disco Non la disturbo, vero? Torni a casa, suo marito l'aspetta È morto Oh merda, sì, è vero Elsa Tua moglie lo sa Ma se ti dico che non ha scoperto niente Ci diciamo molte bugie noi due Non ti ho mai mentito, Elsa Eh, Nathalie, qui nessuno mente Che c'è ancora? C'è un grosso problema Piove addirotto nel mio salone Ci vuole l'assicurazione Ah, lei paga me il nero? Ah, sì, è vero, anche questo è vero Da Disney Video Un mondo magico Che sarà tuo Da custodire per sempre Che gente noiosa Che serata inutile No, perché? A me sembrava carina I fotografi! Sono beccato! Mettiti su, entriamo nel retro Ma che ti frega della scarpa? Alessia! 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 Scusi, dov'è la hall? Da prima a destra Ce l'abbiamo fatta Stai, Gatto, vai, vai Spogliela, vatela Spogliela Quest'anno le vacanze di Natale Si fanno a cortina E cala Mi hanno dato il benvenuto Dei fini millennio Tutti a sciare Alla grande Lei è il fortunatissimo Vincitore del Super Enalotto Diciamo che nella vita Ho avuto un po' di culo Oh culo Che ho invidiato d'Italia Si faccia sprofinare Prego avocado Grazie, ne ho proprio bisogno Paolo, guarda C'è la Megan È quella della pubblicità Madonna, mi fa impazzire Come è bella Megan Come è bella Megan Io non sono Duca Sono il signor Hettore Colombo E sono di Milano Molte piacere Ma Duca è un abbreviativo, no? Duca sta per due capelli Ma non vedi che c'è in testa Ma che è una voglia di pregiusto cotto? Hanno traviantato una chiappa Ma che c'è, l'amante? Si ce l'ho È una cubana di Cuba Esmeralda Una cubana cubista Piacere Avvocato Giovanni Covelli Scusate signorine Potremmo avere l'onore Di invitarvi al nostro tavolo E che siete figli di Bill Gates No Siamo Gaetano e ce n'è risposto Pista Levateli di mezzo Ragazzi è spagafolata Dottor Questo è lo sport del 2000 Arrivarci al 2000 05 4 3 2 1 Vacanze di Natale 2000 Il più bel regalo delle feste Al cinema È un vero Walt Disney Solo se ha la garanzia di autenticità e qualità Dell'ologramma argentato Ed il marchio Univideo Presenti sulla confezione Non accettate i falsi Esigete sempre e solo Videocassette originali Walt Disney Home Video Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS A presto. A presto.